Ciao a tutti! Vi siete mai chiesti perché l'anno ha 12 mesi? Alguna vez ti ha preguntato perché l'anno tiene 12 mesi? Qual è l'origine dei mesi dell'anno? Qual è l'origine dei mesi dell'anno? Oggi risponderemo a queste domande e impararemo i mesi dell'anno in spagnolo. Hoy daremo respuesta a estas interrogantes e aprenderemo i mesi dell'anno in spagnolo. Mi chiamo Dalila, sono un'insegnante di spagnolo. In questo canale impararemo questa lingua affascinante ascoltando e ripetendo. È così che ho imparato l'italiano. Non sono mai andato a scuola. Ti invito a praticare lo spagnolo. Vedrai che presto potrai comunicare in questa lingua. Se è pronto? Incominciamo. Empezamos. I nomi e i numeri di giorni che compongono i nostri mesi sono stati heredati dal calendario romano o giuliano, redato dal imperatore Giulio Cesar nel 46 avanti Cristo. Inizialmente il calendario romano era diviso in dieci mesi e cominciava a marzo con la primavera. Originalmente il calendario romano era diviso in dieci mesi e cominciava a marzo con la primavera. Adesso ascoltate queste informazioni in spagnolo. Il 4 di ottobre di 1582, il Papa Gregorio XIII establezio il calendario gregoriano, il calendario actual di la gran maggior parte dei paesi del mondo. Il calendario si adottò di forma immediata in i paesi dove la Iglesia Catolica aveva influencia. Sin embargo, in i paesi no catolico, il calendario non si implantò passato dos anni e incluso siglos más tardi. Los primers paesi in adottare il actual calendario sono España, Italia e Portugal in 1582. Ora vediamo i dodici mesi dell'anno. Ripeti Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre 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 Octubre Noviembre Noviembre Diciembre Sei perché si chiamano così? Enero In honore del Dio Janus Dio dell'eporte e dell'ingresi En honor al Dio Janus En honor al Dio Janus En honor al Dio Janus, el Dio de las puertas y entradas. Febrero Il suo nome deriva de la festa romana de la purificazione, chiamata februa Su nombre proviene de la fiesta romana de la purificazione, denominada februa Marzo Onor a Marte, Dio della guerra Asi onor a Marte, Dio della guerra Abril Sebbene non ci sia ancora chiarezza sulla sua origine, sembra essere estremamente correlata A la parola aperto e al arribo della primavera, il momento in cui le pianta floriscano, si aprono Aunque ancora non ci sia ancora chiarezza sulla sua origine, sembra essere intimamente relacionato con la parola april E la llegata della primavera, l'epoca in cui florecen, abri le planti Mayo Se cree che deba su nome a Maya o Maya, diosa della fertilità, la salute e la castità Para chi se celebra un festival in suonor durante este mes Junio Potrebbe avere origine nella dea Junione, la regina dei dèi Che rappresentava la maternità nella mitologia romana Ma si dice anche che è onori uno dei fondatori della Repubblica Romana Di nome Lucius Junius Brutus Julio Mese in cui nasce Giulio Cesar Julio Cesar, il grande imperatore romano e da cui prende il nome Mese in cui nasce Giulio Cesar, il gran imperatore romano e del quale recibe su denominazione Agosto Un altro mese che deve il suo nome a un imperatore romano, Augusto Ottavio I nomi degli ultimi 4 mesi dell'anno, settembre, octubre, noviembre e dicembre Sono inspirati ai numeri, poi che erano respectivamente il settimo, l'octavo, il nonno e decimo mese del calendario romano Vediamo ora alcune frasi relative ai mesi dell'anno Un anno Un anno tiene 12 mesi Un anno tiene 12 mesi In minuscolo A meno che la lettera maiuscula non sia richiesta della puntellatura O faccia parte del nome di un festival, di una data storica o di un nome proprio Esempio Esempio Enero è il mio mes favorito Qui, Enero, si trova al inizio della frase, quindi si scrive in maiuscolo Un altro esempio Esempio Primero de mayo è la conmemorazione del Movimento Obrero Mundial Adesso ascolti il dialogo di Ina Dini En quese mese è tuo complea? Ese noviembre En quese mese è il tuo? Ese il prossimo mese, en marzo Mi mese favorito è dicembre Por la navidad qual è il tuo? Mi piace agosto Quindi siamo con la plai crilica tutti i prossimi È il mestolo più caloroso Adoro il sol Credo che ogni mese del anno ha qualcosa di speciale. In che mese è il tuo compleanno? È in noviembre, in che mese è il tuo? Il prossimo mese è in marzo. Qual è il tuo mese favorito del anno? Il mio mese favorito del anno è dicembre. Perché? Per la navità, qual è il tuo? Mi piace agosto perché andiamo alla playa a settembre. È il mese più caluroso. Adoro il sole. Credo che ogni mese del anno ha qualcosa di speciale. Questo è tutto per oggi. Non dimenticare di dare un mi piace, un me gusta. Scriviti e attiva il campanello per ricevere notifiche sulle prossime lezioni gratuite. Mille grazie. Ci vediamo! Ciao! Ciao!